I deflettori servono per deviare nello spazio le particles, creando effetti come rimbalzi e variazioni su una superficie, oppure per far rallentare o scorrere le particles su di esse. Non è necessario utilizzare una geometria per applicare l'effetto, ma basta l'icona poiché essa agisce come tale. Naturalmente non in tutti i casi, ma in alcuni casi specifici. Essi si dividono in due grandi categorie, HOMMIDFLECTOR e DEFLECTOR. Gli HOMMID, indicati in questo caso con la scritta verde, hanno delle caratteristiche particolari. Difatti essi agiscono sia sulla riflessione e rifrazione e sulla riproduzione di particles, quindi l'effetto di spoving. Mentre i DEFLECTOR, utilizzabili in sistemi avanzati anche come oggetti di collision, hanno un numero ridotto di parametri, ma non per questo sono poco indicati, anzi sono preferibili proprio per la rapidità di impostazione. Di conseguenza abbiamo il POMMIDFLECT e la versione planare, come si può notare dall'icona, il suo corrispettivo è il DEFLECTOR. L'ESOMMIDFLECT è una versione sferica ed anche esso, come il POMMIDFLECT, interagisce con l'icona. Il suo corrispettivo è l'EXDEFLECTOR. UOMMIDFLECT si associa ad una geometria permettendo l'interazione delle particles con esse, mantenendo i parametri espressi sopra. Il suo corrispettivo è UDEFLECTOR. Per collegare i vari Space Warps, FORCE e DEFLECTOR, bisogna creare un collegamento LINK con il BIND TO SPACE WARPS, che troviamo accanto al SELECT e LINK e AL LINK SELECT.